Si torna a parlare del mercato coperto a Piazza d'Armi. Entro due anni potrebbe essere realtà una necessità ravvisata più volte nel corso degli anni dagli ambulanti, da quando lo storico mercato a causa del sisma ha dovuto trovare una sistemazione alternativa. A Piazza d'Armi ormai il mercato cittadino è una realtà consolidata, ma le problematiche, soprattutto d'inverno, ci sono a causa delle condizioni atmosferiche che spesso creano problemi agli ambulanti e rendono inagibile il mercato. In attesa del ritorno a Piazza Duomo, che però non appare imminente, ieri al SUAP, che si occupa di attività produttive, c'è stata una riunione con il vice sindaco Raffaele Daniele. Il vice sindaco ha illustrato un progetto da 10 milioni di euro per coprire il mercato con fondi del PNRR. E questo sarà un mercato coperto di 80 banchi, che è una spesa di 10 milioni di euro. E poi sarà il mercato in Piazza Duomo, che sarà un mercato più piccolo, un po' più diverso da questo qua. Questo sarà il mercato in Piazza D'Armi con più banchi, invece quello in Piazza sarà con meno. Per rilanciare le attività commerciali anche dei giovani, il mercato coperto, perché adesso, siccome abbiamo perso parecchie partite IVA, stanno chiudendo, invece rilanciando il mercato coperto dovremmo fare un nuovo rilancio del commercio sulla Repubblica. Con il PNRR dovremmo stare con tempi di due anni, così ci dice l'amministrazione comunale. Perciò sono tempi non molto lunghi da come dovrebbe essere. I tempi non sono lunghissimi. Noi abbiamo tempo per riorganizzarsi e per parlare con i tecnici, perché abbiamo visto ieri un progetto di massima. Inoltre ci sarebbe anche il problema delle concessioni del mercato, scadute a quanto se ne sa, dal 2018. Il Comune, dice Capretti, sta predisponendo e tutto. Non ci sarà un nuovo bando, ma entro il 30 giugno il rinnovo delle concessioni ci sarà per chi è in regola. Nessun problema quindi, secondo lui, tutto nei tempi previsti. Il Comune dell'Aquila e l'assessore del commercio sta preparando il rinnovo. Non c'è più il bando, ma c'è il rinnovo delle concessioni di quelli che ci hanno. Ci sono delle regole nuove, che sono quelle che per rinnovare per 12 anni ci serve che l'operatore non sia moroso nei confronti dell'amministrazione, che sia segnato in Camera di Commercio e entro il 30 giugno vanno rinnovate per 12 anni. Il Comune sta procedendo abbastanza velocemente. Siamo nei termini.